E' il momento della verità, tutte le prove che ho fatto fino ad oggi sui miei server virtuali e privati Mi hanno insegnato come installare Nextcloud su una distribuzione Ubuntu? Adesso che ho affittato il mio WPS? Ebbene, siiii! Vi faccio vedere come sono arrivato qua Allora, prima di tutto vado a fare o eliminare lo snapshot, a ripristinare lo snapshot Che è quello della puntata precedente, perché ho fatto i miei tentativi che adesso vi riporto Ho salvato gli appunti, quindi vado a ripristinare Poi ripristinare quello del 2 maggio alle 15.50, sono 3 ore fa Dovrebbe essere, attenzione, questo elimina la versione corrente del tuo WPS Perfetto, sperando che arriviamo ad un punto carino Ok, vado a... apro il mio Putty Ok, vediamo dove siamo Ok, siamo che mi sono eliminato pure l'installazione di Rust Desk Bravo, bravo Paolo, ma quanto sei bravo Vabbè, poi me lo ristallo No, veramente, mi sono eliminato tutto Vabbè, ma noi andremo avanti Passiamo all'installazione di Nextcloud Vi elenco, vi butto dentro esattamente gli stessi comandi che vado a prendere sotto il mio video Ovvero la Virtual Lab 64 Con l'unica differenza Vediamo se qua ci sono i comandi Con l'unica differenza che vado ad integrare Con l'integrazione dal video Help Desk Lab 09 Vado a prendere anche le configurazioni del Firewall di Ubuntu Ma comunque vi metto tutto in descrizione A voi non vi danno niente Sono io che faccio queste cose Ok, mettiamo tutto lì sopra per gli appunti E partiamo Allora, cominciamo con il sudo update e il sudo upgrade Solo con l'opzione in più, meno y alla fine Per essere più veloci I soliti ok ok per le bellissime finestre di Ubuntu Abbiamo fatto l'upgrade Butto dentro il comando dell'installazione o del download e dell'installazione Di tutti i pacchetti di prerequisito di Nextcloud come da guida Che comunque vi metto sotto Solita finestra, solita finestra Diamolo ok Pronti per il download di Nextcloud Con vget Eccolo qua Vget di Nextcloud Velocità abbastanza buona Quando ho acquistato i 100 megabit Vuol dire che non posso mai arrivare sopra i 12.5 megabyte al secondo Infatti si trova Ok, faccio il tar Quindi ho scaricato l'ultima versione di Nextcloud Faccio il tar trattino E così lui lo estrae E ha finito E poi come da procedura Faccio una copia Di tutta la cartella Nextcloud in var www Dove risiederà il nostro Apache Perfetto Vado a dare il comando Questo qui Che non fa altro che Cambiare il proprietario della cartella Dandolo a r A www Data Che è di proprietà Apache In modo che funziona E anche questo è stato fatto E poi Vado a creare la configurazione Con sudo nano E qui andrò a fare Un copy and colla Direttamente dal sito Quindi copiatevi sotto la guida Abbiamo un Etc Apache 2 Siteavailable Esatto E qui creiamo il nostro Nextcloud.conf Sarà bianco Ma nessun problema Perché noi Ci prendiamo Appena la trovo Come dall'altra guida Ci troviamo Quindi copiamo Tutta la parte relativa al virtual host Se vogliamo seguire la guida del virtual host La incollo Devo fare delle modifiche Quindi salvo per il momento Do l'hostname Per sapere il nome del server Che è questo Triplo click Quindi ritorno Qui E gli vado ad incollare Qui dove c'è scritto Your server name Il mio server Eccolo qua E basta Perché Questo è predefinito E sta dentro Faccio già La modifica Da qui Adesso che me la ricordo Se no la devo richiamare Più avanti Del 443 Che sarà L'accesso Solo HTTPS A Nextcloud Ok salvo Vado ad abilitare Tutti i moduli Che servono Con sudo A2 E mod Che è il comando Che è il comando di Apache E vado a buttargli dentro Il modulo In ordine Revrite Poi Ladders Spazi giusti Ok Alcuni erano abilitati Altri si sono abilitati Quindi potevo farlo uno a uno Adesso lui mi chiede un sudo Restat Prima però vado a disabilitare Il default SSL Quindi vado a disabilitare il default SSL E vado a modificare Me ne vado in Etc Apache 2 Site Available Default SSL Vado a mettere Io vedete che qui è già 443 Ma il default sarà Nextcloud Ok Che sarà sulla porta 43 A posto Salvo Yes E dovremmo essere a posto Andiamo a vedere se funziona Ma vi dico già che non funziona Facciamo un sudo Systemctl Restart Della Apache Due service Perfetto HTTPS Due punti Slash Slash Funziona E funziona Ok E' tutto funzionante Ma attenzione Vi dicevo che non funziona Non funziona Perché ho messo in coda In questo video Cosa che prima non avevo fatto L'abilitazione Del Firewall Quindi andiamo ad abilitare Il firewall E non funzionerà Quindi prima di abilitare Il firewall Gli dedichiamo la rules Che serve per abilitare Ovvero per bloccare tutto Abilitare solamente L'HTTPS Sopra Il firewall Ok questa roba qui Me l'avete vista fare Prima dall'altra parte Quindi sudo Uff Allo Faccio un copia e incolla Che non c'ho voglia Di ripetere le cose Quindi Vado ad abilitare L'accesso alla macchina Solo dal mio indirizzo IP Ed è updated Vado ad abilitare Vado ad abilitare L'accesso TCP Della porta 443 Ed è abilitata Vado ad abilitare Sudo Uff Enable Ed ho abilitato Il sistema Quindi adesso Fatto questo Alla porta HTTP Normale Non è più Accessibile Nulla Non c'è più l'accesso A nulla Ma solo dopo questo È abilitata La porta HTTPS Due punti Slash Slash Ed abbiamo La prima installazione Di nextcloud Dopodiché Non l'abbiamo ancora fatto Andiamo a Buttare dentro Il sudo MySQL Qui Vado ad incollare Esattamente le cose Che ho incollato L'altra volta Che vi metto sotto In descrizione Faccio un copia e incolla Anch'io Ok Il La Creazione dello user La mia password Il database Che si chiama Nextcloud E il grande Tutti i privilegi Sul database Nextcloud Dell'unico mio Utente Creato solo ed esclusivamente Per l'accesso A nextcloud Dopodiché Facciamo anche un Flush Quindi un Applicazione dei privilegi Un quit Boh Non vi faccio vedere più niente Lancerlo tutto E vado a Scrivere esattamente Il mio account Quindi Paolo Non me lo ricordo più Boh Siamo dentro Esattamente Nell'installazione Nella prima installazione Di nextcloud Sul nostro Server privato Affittato Adesso Non mi resta Che installarlo Sul mio Cellulare Tutte le varie Applicazioni Ed avere L'accesso Al mio nextcloud Riservato Con uno spazio Che va Attorno Ai 15 giga L'unica L'unica accortezza Che andrò A fare È quello Di dargli Magari Proprio Al mio account Un limite A 5 giga 10 giga Così quantomeno Non vado a saturare Lo spazio Eccoci qua Facile Difficile Comunque Tutti gli sforzi Che ho fatto O che abbiamo fatto Di allenamento Su Proxmox Ci ha portato Ad oggi Ad installare Su un VPS Affittato Seguendo le guide Che avevamo fatto O ho fatto Giusto per Che Per farvele Perché ho youtube Altrimenti non le facevo Ma comunque Le guide che ci sono Funzionano Funzionano Quindi Se vi va Seguitemi Per i prossimi video Grazie